Con l'avvicinarsi dell'inverno torna all'appuntamento con l'influenza e con la vaccinazione anti-influenzale iniziata in questi giorni per tutelare la popolazione, in particolare i soggetti più a rischio. Ma come si prevede che sia quest'anno l'influenza? Dovrebbe essere un pochino più grave rispetto agli anni precedenti perché abbiamo due varianti antigeniche rispetto all'influenza dello scorso anno e quindi il vaccino è stato modificato proprio aggiungendo queste due varianti in modo tale da poter essere più efficace. A chi è consigliato? Dunque è consigliato sicuramente alle persone a rischio. Intanto ai soggetti di età superiore a 65 anni perché possono avere anche delle comorbilità e comunque anche di età inferiore a 65 anni se hanno patologie a rischio soprattutto i cardiopatici, i broncopneumopatici, i diabetici e altri soggetti. E comunque anche alle persone che si occupano di, che lavorano in strutture di pubblica utilità e gli operatori sanitari. I tempi quali sono? Abbiamo già iniziato a effettuare questa vaccinazione quindi questo è il periodo più indicato per vaccinarsi in modo tale da essere pronti con gli anticorpi al momento giusto che è in genere verso Natale e inizi di gennaio. Oltre al vaccino anti-influenzale ci sono alcune buone pratiche che possono aiutare a stare lontani dall'influenza. Dunque oltre alla vaccinazione sicuramente è importante il lavaggio delle mani, lavarsi spesso le mani e poi anche quando si tossisce, quando si stannutisce mettere un fazzoletto davanti alla bocca in modo tale da evitare la diffusione del virus. Quindi questo è uno dei principi fondamentali per diminuire la diffusione della malattia. Ci possono essere delle controindicazioni? Le controindicazioni alla vaccinazione possono essere delle controindicazioni temporanee nel senso che se uno ha la febbre o non sta bene è meglio non vaccinarsi, aspettare il momento più opportuno. Comunque il vaccino è molto sicuro, non dà effetti collaterali particolari se non magari un fastidio nel punto di inoculazione. Quindi vengono fatti milioni di dosi all'anno e non abbiamo nessun effetto collaterale importante. La campagna vaccinale è partita in questi giorni presso i medici di Medicina Generale per la popolazione con età maggiore di 65 anni e i soggetti appartenenti ai gruppi a rischio. Gli altri potranno vaccinarsi presso il proprio distretto di appartenenza.